La passione per la scrittura è innata. Boris Gagliardi ha scritto due libri. Il terzo, Oblio Blu, è in uscita. Nelle opere precedenti vi sono delle raccolte di pensieri di vita. Un libro che è il frutto dei due libri precedenti, che sono La Gioia e L'Uomo Vivo. Due libri che ho scritto e ho dedicato alle mie bambine, Mai e Noemi, per lasciarli in qualche modo un ricordo delle sensazioni, delle emozioni che un padre vive quando scopre di diventare padre. Dentista nella vita, scrittore per passione, come trova il tempo per mettersi a scrivere? Io sono un odontoiatrolistico, nel senso che mi piace, nella mia vita, mi piace considerare le diverse sfere come un unicum, dove una cosa non è slegata all'altra. È un po' come tutti gli organi di un organismo. Uno dipende dall'altro, insieme collaborano perché ci sia uno stato di salute generale. Oblio Blu appartiene al genere della narrativa fantastica, ma si veste anche dei colori del giallo perché comunque c'è un assassino che cammina per le pagine del libro. Ci sono una serie di personaggi che sono le diverse facce della stessa anima, però che vivono in tempi e in luoghi differenti. Lei come convincerebbe una persona a leggere il suo libro? Oblio Blu è un sogno, un sogno che appartiene a tutti, perché tutti noi siamo stati dei bambini, tutti noi siamo stati degli adolescenti, tutti noi abbiamo avuto un grande amore, un grande amico con cui passeggiavamo la sera. In tutti noi c'è una parte buona e ce n'è una che può diventare cattiva. Insieme queste parti devono imparare a conoscersi e a collaborare. Solo così potremo in qualche modo sentirci presenti a noi stessi e vivere una vita dignitosa. E' felice, aggiungo io, perché si può anche essere felici sul lavoro, in famiglia. E l'importante è trovare un equilibrio nella propria vita che ti permetta di stare bene, di essere felice. Sul sito bookbook.it si può leggere l'anteprima del libro Oblio Blu.